A fa fatale per una donna che aveva deciso di passare la giornata in spiaggia a Polignano. Salso Eleonora, 66 anni, è deceduta dopo un malore all'ospedale di Monopoli. La donna, residente a Conversano, intorno alle 2 del pomeriggio, si trovava con amici e parenti presso la spiaggia di San Vito a Polignano, in un tratto di costa noto come La Colonna, frequentato proprio dai conversanesi. All'improvviso si è accasciata al suolo, colta da malore. Sono stati i suoi congiunti ad allertare i soccorsi, chiamando il 118. I tentativi di rianimazione in spiaggia sono durati circa 30 minuti, raccontano alcuni testimoni, ma non sono valsi a nulla. La donna è poi ispirata durante la corsa in ospedale a bordo dell'Abulanza. Al pronto soccorso del San Giacomo è giunta già cadaveri. Una prima diagnosi, stilata dai medici, parla di arresto cardiaco. La salma della donna, 66 anni, di Conversano, si trova all'obitorio dello stesso ospedale, in attesa di essere riconsegnata ai familiari. Salso Eleonora potrebbe quindi essere purtroppo la prima vittima del caldo di quest'estate 2013.